Una lettera accorata, forte e dai toni decisi, in cui non chiede compassione ma giustizia e riconoscimento dei propri diritti. La scritta dal carcere Marcello Dell'Utri, a cui do giorni fa il Tribunale di Sorveglianza di Roma, ha respinto la richiesta di sospensione della pena. L'ex senatore sta scontando in cella una condanna a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Nella lettera Dell'Utri, che oggi ha ricevuto in carcere la visita del deputato Renato Brunetta, torna a chiedere di poter essere curato in ospedale. E' un uomo di 76 anni, malato, ingiustamente detenuto e legittimamente arrabbiato, racconta dopo l'incontro Brunetta. Con Dell'Utri, aggiunge il parlamentare, abbiamo parlato per circa mezz'ora alla presenza della direttrice del carcere e del capo degli agenti di custodia. Dell'Utri è affetto da patologie cardiache e oncologiche e dopo la decisione del Tribunale di respingere la richiesta di sospensione della pena, ha iniziato lo sciopero del vitto e delle terapie. Di Dell'Utri parla anche l'ex presidente della regione siciliana, Salvatore Cuffaro. Lo Stato e in questo caso la magistratura di sorveglianza credo debbano restituire il cittadino Marcello Dell'Utri alla sua casa, perché possa curarsi e continuare, accompagnato dall'amore della sua famiglia, il suo processo di rieducazione e risocializzazione. Solo in questo modo la giustizia darà valore al significato che la nostra Costituzione assegna alla pena. Lo Stato, per i suoi figli, tutti e padre, è come tale deve comportarsi, aggiunge Cuffaro, non come patrigno, privo di umanità e sensibilità. Le istituzioni che lo rappresentano devono saper cogliere questo nobile significato. So cosa è la sofferenza del carcere, afferma Cuffaro, che ha scontato in cella una condanna per favoreggiamento personale a Cosa Nostra. E per questo prego, perché la nostra giustizia, nella quale continuo a credere e a fidarmi, possa rivedere la sua decisione e consentire a Dell'Utri di scontare la sua pena in detenzione a casa.